buongiorno a tutti oggi domenica 5 aprile facciamo un riassunto di ciò che vediamo a monitor sui grafici per quanto riguarda il fuzzimib lo faremo con l'analisi ciclica evoluta che è un'evoluzione della ciclica base di hearst elliot non c'entra niente assolutamente niente che include anche tecniche di gun analisi tecnica indicatori candele giapponesi e tantissimo altro e che evolve proprio per il fatto che non è un sistema che rimane fermo perché i mercati non rimangono mai uguali a loro stessi e quindi per poter continuare a fare analisi il più possibile attinenti al fenomeno stesso facendo magari anche piccoli errori ma continuando ad avere una continuità di guadagno non si può far altro che mutare e cercare di approssimare al meglio la realtà che muta i mercati sono cambiati tantissimo anche soltanto negli ultimi tre anni con l'avvento sempre più massiccio delle negoziazioni fatte da hft high frequency trading allora torniamo noi che cosa sta succedendo potenzialmente abbiamo che l'annuale ciclico il t più 5 si è chiuso sul minimo del 16 marzo 2020 successivamente come state vedendo non abbiamo avuto una ripartenza fantaspettacolare come dovrebbe essere mediamente per una per quanto riguarda un nuovo annuale ciclico ma siamo anzi già arrivati a un ritracciamento del 38 per cento stiamo perdendo il 38 per cento dal massimo appena fatto e questo che cosa significa significa che è possibile che da qui non stia partendo appunto un nuovo annuale ed è per questo che sono sempre molto cauto e in questo momento non voglio andare in overnight troppo rischioso ma è possibile che invece ci sia un raccordo ovvero una finta ciclica e questo che cosa implica implica che dalle regole della teoria se ha chiuso un t più 5 la finta potrebbe essere un mensile anzi dovrebbe essere un mensile della teoria un mensile ciclico però non è un mensile canonico ok non sono 30 giorni anche perché la borsa è aperta soltanto per 20 giorni 22 giorni in un mese da lunedì al venerdì per cui sappiamo quanto dura un mensile ciclico sappiamo per quanto continuare a mantenere molto alta l'attenzione se iniziassimo a vedere troppa discesa di nuovo verso questo minimo l'ipotesi raccordo ciclico diverebbe una realtà per cui tutti quelli che stanno già scommettendo sul long a morte ok avrebbero magari qualche piccolo problema a un certo punto piccolo problema che sarebbe andare o in stop loss oppure nella migliore delle analisi perdere tanto per cui prudenza massima la prima regola del trader è ridurre al minimo le perdite quindi non si può fare trading senza l'utilizzo degli stop loss sempre in ogni possibile operazione idem poi per i take profit quando si inizia ad andare in profit tornando a noi il primo settimanale è partito da questo minimo ed è arrivato a questo minimo qua e poi è partito il secondo di settimanale che è già arrivato a 5 giorni qui è ancora più evidente vedere come tra questo minimo a 16.312 e questo a 16.384 passino pochissimo tic pochissimi tic per cui abbiamo già un secondo tic che potenzialmente sarà ribassista a breve magari già lunedì e in base al ritracciamento che farà potremo capire quanta forza va anche il secondo t più 1 bisettimanale che partirà a breve perché questo è il primo t più 1 che è partito insieme al t più 2 eccolo qua siamo già a 14 bar peraltro ben oltre la durata minima di 12 e poi bisognerà vedere che cosa succede per cui come al solito controllo con swing e avete imparato quanto sono importanti gli swing se mi seguite da un po' di tempo fanno la differenza tra tradare e perdere dei soldi e tradare e andare a guadagnare altra cosa vediamo l'inverso da questo massimo è partito un inverso che ha chiuso a 24 candele ovvero il minimo indispensabile di inverso su questo massimo ok 24 e poi è partito un qualche cos'altro che anche in questo caso attenzione bisogna essere sempre molto cauti ma potrebbe essere appunto non soltanto un t settimanale perché l'abbiamo già quasi anzi abbiamo ben più di un t settimanale abbiamo 8 giorni di discesa verso il basso quindi di rialzo per l'inverso di ribasso per l'indice che ci dicono che da qui può essere tranquillamente partito un altro messile e se il mensile non supererà questo massimo e noi continueremo ad andare sempre più giù e quindi si realizzerà l'ipotesi di raccordo che continuo a dire da tante tante settimane perché lo dico per il semplice fatto che ho molta esperienza ho vissuto tante crisi di fronte ai monitor ho visto tante volte false partenze e dato che utilizzo ciclica e GAN la ciclica è voluta ci dice che tra cicli grossi come un annuale e un altro annuale bisogna mettere sempre in conto un raccordo se no siamo ripartiti schizzando verso l'alto con una V ok? abbiamo fatto così boom boom e risalite invece stiamo facendo 1 2 e rischiando di andare a fare 3 spero che sia chiaro perché continuo a dirlo da un po' di analisi ma vedo che alcuni mi fanno ancora tante domande per cui è importante capire questo genere di potenziale ripartenza e ipotesi in modo da fare da spartiacque tra chi conosce i mercati e si aspetta già queste cose da tempo da quando abbiamo fatto un minimo che è stato sostenuto da qualche candela il tentativo di rimbalzo e chi invece purtroppo non ha mai vissuto queste cose davanti ai monitor facendo trading e quindi ha molta meno esperienza idem per il discorso di HFT o li conoscete o è meglio non parlarne se li conoscete però è anche corretto che mi dimostriate come riuscite a tradare facendo attenzione non andate a finire contro questo è tutto vi ringrazio per l'ascolto ricordatevi sempre che ormai le analisi sono più concentrate su DAX perché il DAX ci dà la possibilità di andare anche short vi ringrazio per l'ascolto e se l'analisi vi è piaciuta mettete un fantastico like buona domenica a tutti